buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscolo oggi rispondo ad un signore di tokyo che mi chiede dottore come si fa a non essere più agitati mi sento un'agitazione addosso un'ansia uno stress non so come chiamarlo come posso fare per non sentirmi più agitato io ho detto che se si tratta di agitazione un mix di stress e di ansia poi visto il periodo poi del covid in tutto il mondo dove la tv bombarda e ipnotizza tra virgolette le persone non c'è altra spiegazione per cui se uno le ha provate tutte ma rimane sempre con questa agitazione con questo stress chiamiamolo come vogliamo si può scaricare degli audio molto potenti naturali dal titolo no ansia no panico oppure no stress molto controllo dei nervi o tutte e due che non sbaglia segue le istruzioni molto facili è la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro ed elimina quell'agitazione quel vuoto esistenziale quella apatia quella quell'ansia mischiata allo stress che non fa vivere le persone soprattutto in questo periodo mi ricordo anche quando io avevo l'ansia lo stress che non riuscivo veramente a concentrarmi alla prima notizia in tv mi sentivo un vuoto dentro un qualcosa che mi mangiava se la posso descrivere con termini culinari un peso al petto oppure un le mani mi tremavano ero veramente sotto l'effetto di emozioni e sensazioni negativi causati in primis da mio padre che mi aveva trasmesso sto modo di vivere mio padre era la persona più stressata della terra si arrabbiava in un nanosecondo ma poi anche dalla tv paura che ci semina dalla mattina alla sera ansie e paure di ogni genere nel nostro subcosciente ora per eliminarli devi lavorare con lo stesso sistema al contrario entrare nel tuo subconscio è la chiave per entrare nella porta del tuo subcosciente dell'ipnosi di cs vera professionale con la b maiuscola e passare da un mare agitato ai presenti il mare in tempeste il mare agitato mare d'inverno a un mare calmo una tavola dove l'acqua diventa cristallina e puoi vedere sotto e ti senti quella pace interiore quella tranquillità che non ha mai sentito in tutta la tua vita come è successo a me nel 2008 con la dottoressa rina brunini e con i suoi audi mp3 dcs che su quale ho fondato il mio metodo metodo dcs perché sono l'unico caso al mondo che da più di 11 anni si improdizza a certi livelli da più di 12 anni dal 2008 anche adesso sono improdizzato anche se non sembra per cui se vuoi eliminare l'agitazione lo stress chiamalo come vuoi ci sono questi audi molto potenti dal uno stress molto controllo le nervi e no ansia no panico scarica tenita qualsiasi parte del mondo in cui si editi meraviglierai del potere della tua mente fammi tutte le domande il caso visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi appunto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel qui da quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi risoluzione di cs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mia amica mia alla prossima